Il veneto delle nuove rotte economiche globali, porto di Venezia e autostrada A27. Questo è il titolo di un convegno organizzato dalla Cisle regionale a Mestre. L'idea della sbocca autostradale a nord torna ad attualità. L'idea non è nuova, anzi c'è un progetto vecchio di 30 anni che però è rimasto nei cassetti a seguito di numerosi veti. Si legge in una nota di Cisle Belluno a Treviso. C'è una fame di infrastrutture connettive che caratterizza l'economia regionale, cresciuta grazie all'export e al turismo, settori dove le comunicazioni sono strategiche per la competitività. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, però avverte treno e strada o autostrada non possono essere messi in contraposizione in un auto-auto che blocca tutto. Si tratta di due vettori diversi, con modalità trasportistiche differenti e diverse finalità. Per il treno delle Dolomiti, intanto non c'è ancora un tracciato, ma Padrin ricorda come il piano trasportistico varato nel 2010 dall'amministrazione Reolon indicasse una sola via, ovvero la più breve, ovvero il passaggio in Valle del Boite. E sempre in quella valle si sta lavorando per potenziare l'Alemagna, mentre la regione spinge anche per il carosello sciistico Alleghe Cortina-Arabba. Alivina a Longo, il sindaco Leandro Grones alza le barricate, mentre la creazione di un comitato per il no appare imminente. potrebbe nascere il termine di un incontro che si terrà in paese martedì sera. A 50 km in linea d'aria, intanto, continua il fermento del comitato per il sì al collegamento sciistico Comelico-Valpusteria.